La New Image Volley comincia sotto i migliori auspici il campionato di serie C maschile, espugnando il parquet di Bronte col risultato di 3-7-1. 23-25-25-16, 14-25-21-25 i punteggi. I ragazzi di Luca Palma iniziano dunque col botto, andando a violare uno dei campi più difficili di un girone livellato verso l'alto. Una New Image rinnovata e che punta a obiettivi ambiziosi, come commenta un entusiasta Antonello Sorbello, presidente della squadra giarrese. Ma gli obiettivi stagionali, quest'anno il campionato di serie C purtroppo è molto ma molto più tosto rispetto all'anno scorso. Intanto 13 squadre, c'è un lotto di almeno 5 squadre che si sono rafforzate notevolmente. Noi quest'anno vogliamo fare un ottimo campionato. L'anno scorso si può dire che siamo stati la rivelazione perché poi tutto sommato non era il nostro obiettivo quello di andare a disputare i playoff. Li abbiamo sfiorati, li abbiamo sfiorati. Quest'anno purtroppo sarà difficilissimo anche ripeterci. Sicuramente una delle squadre più forti del campionato è la consorella cugina, il Papiro Fiumefreddo, che bene o male è rimasta quella dell'anno scorso. Quindi una squadra molto competitiva. Poi c'è il Bronte che abbiamo giocato ieri, c'è la Gira, c'è soprattutto l'Augusta. Quindi un lotto di formazione sicuramente di alta classifica. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Cerchiamo di prenderci magari di settimana in settimana qualche bella soddisfazione. Poi alla fine vediamo dove arriviamo. I conti si fanno poi alla fine.